Come ho suddiviso i canali del mio mixer, che è una cosa che veramente può interessare tanto alle persone addette ai lavori nel mondo della radio, come essere più comodi per alzare e abbassare. Ve lo spiego su Instagram, at Omega Radio, nel video backstage di oggi. Radio Omega, musica senza fine. Qualche giorno fa, qua in radio, è arrivata questa, cari amici. Sto parlando della Focusrite 3rd Generation 2 in 2. Praticamente ci permette di avere due ingressi XLR all'interno di un'unica scheda audio. Ma non è l'unica cosa che fa questa meravigliosa scheda audio ed è proprio quello di cui voglio parlarvi oggi. Le potenzialità di una scheda audio di questo tipo è una delle poche, davvero, plug and play. Inserisci e cominci. Parlo in radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi. Chi mi segue su Instagram sicuramente sarà un po' avvantaggiato. Un po' perché ho mostrato una diretta in cui rispondevo alle vostre domande e vi parlavo già in anteprima di questa scheda audio. E un po' anche perché ho fatto l'unboxing di questa scheda audio nelle stories della mia Omega Radio. Omega Radio trattino basso, se volete potete andarmi a cercare. Lì trovate tutti i backstage della radio che sto mettendo in piedi. Allora, questa meravigliosa scheda audio. Cosa ci permette di fare? Sostanzialmente io la utilizzerò per una cosa, ovvero per mandare tutto quello che esce dal mixer, quindi il master del mio mixer, in onda, in diretta. Che cosa ho fatto quindi? Ho connesso semplicemente un cavo da RCA a XLR, se ne trovano diversi online, anche buoni come questo, molto buono. L'ho mostrato sempre sul mio profilo Instagram Omega Radio trattino basso. E ho connesso destro e sinistro ai due ingressi XLR di questa scheda audio. Sì, perché vi ricordo che con questa mia scheda audio passata, che era l'UR12 di Steinberg, a parte il fatto che era davvero molto più pesante rispetto a questa Focusrite Scarlett, che vi invito, se siete alla ricerca di una scheda audio veramente ad acquistare, perché l'ho trovata meravigliosa, ma tra poco vi parlerò meglio. Questa scheda audio aveva un solo, dov'è? Qua, un solo ingresso XLR, quindi mi registrava costantemente, ogni volta, giustamente, soltanto in mono. Ma il tracciato che mi veniva prodotto era stereo, quindi voi dovete immaginare tutto quello che esce dalla radio che si sente solo dalla cassa di destra, per esempio. Non sicuramente una cosa ottimale da mandare in diretta. Quindi, ho detto, devo comprare una scheda audio assolutamente a due ingressi XLR. Ho optato per lei. Allora, questa, amici, è una scheda audio che registra fino a 192 kHz, 24 bit USB, ha l'USB-C in dotazione e possiamo connettere veramente tantissime cose, tra cui anche il monitoraggio con un'amplificazione da parte della scheda audio stessa degli speaker. Quindi, se noi abbiamo due bei monitor, in questo caso audio, e vogliamo ascoltare la musica in grande qualità, attraverso questa scheda audio è possibile farlo. Mi raccomando, se avete dei bei monitor con cui ascoltare dell'ottima musica direttamente dal vostro PC, evitate di acquistare adattatori per connettersi direttamente all'uscita cuffie del PC. Sembra una banalità, amici, ma queste vi salvano. Vi salvano perché si sente benino se connettete alle cuffie, all'uscita cuffie del vostro PC, ma non sarà mai come la connessione ad una scheda audio di questo tipo. Ora vi mostro anche che cosa c'è in dotazione che mi ha piacevolmente sorpreso. Sono rimasto piacevolmente sorpreso. Beh, da cosa sono rimasto piacevolmente sorpreso, direte voi? Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo, cari amici. Questo programma in dotazione con la nostra Focusrite Scarlett 2i2 ci permette, vedete, di settare i due ingressi analogici come preferiamo. E ora non modificherò niente, altrimenti non sentirete più la mia voce. Però sentite anche la mia voce com'è chiara, com'è buona, insomma, è fatta davvero bene. A differenza del mio vecchio Behringer UCA222, che insomma c'è anche una differenza di prezzo, però tuttavia non permetteva una così chiara pulizia, ecco, del suono. Abbiamo tutte le nostre impostazioni direttamente da qua. Possiamo, vedete, modificare il sample rate, il clock source invece è sempre internal. E possiamo anche decidere se dare la 48V, quindi se connettiamo direttamente un microfono a condensatore alla nostra scheda audio, possiamo farlo. Un'altra cosa interessante, è una cosa carina che non serve a niente, però è simpatica, è questa, la possibilità di modificare i colori in base a come sta arrivando il segnale all'interno della nostra scheda audio. Sapete che se arriva un segnale troppo alto, se ci sono dei clip, eccetera, generalmente i mixer, tutte le cose che riguardano l'audio, vediamo del rosso. E qua, infatti, vedete che clip è sul rosso. Ma cliccandoci sopra, se voi volete che il clip sia viola, lui ve lo fa viola, è proprio, è una cosa carina, non cambia niente, però è carina. Oltretutto, insieme a questa scheda audio, vi danno anche la possibilità di scaricare Ableton Live Lite, oppure Pro Tools Lite, sempre. Quindi due versioni, ovviamente, non complete del programma, che però, attenzione, sarebbe a pagamento. Quindi un'altra cosa sicuramente vantaggiosa. Che dirvi, cari amici, lo spettro di questa chiacchierata insieme a voi è questo qua. Quindi, devo dire, vedete, sto parlando con voi in questo istante. È uno spettro bello, pieno, pulito, senza picchi troppo elevati. E io, credetemi, non farò nulla, non monterò nulla per quanto riguarda l'audio. Quindi quello che sentite qua sotto è esattamente quello che questa Focusrite sta, come dire, registrando. Veramente ottimo, cari amici, consigliatissima. E consigliatissima anche, appunto, se dovete fare quello che faccio io. Quindi mandare il main del vostro mixer in onda. È ottima, è ottima. Avete i vostri livelli, ve li settate manualmente. Insomma, veramente ottima questa Focusrite Scarlett 2i2. Il consiglio dell'acquisto è sempre valido. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistare anche voi una scheda audio di questa tipologia. Per quanto riguarda il mio account Instagram, ve lo ricordo un'altra volta, perché so che molti di voi sono molto curiosi per quanto riguarda il backstage radiofonico, no? Che cosa si fa quando non si registra il parlo in radio qui, in questo tavolo, in questo studio? Che cosa facciamo? Che cosa stiamo preparando per gennaio? Beh, se volete scoprirlo, mi raccomando, Omega Radio trattino basso, andatemi a seguire. Seguite anche i canali ufficiali del podcast, mi raccomando, at ilpodcast, cercateci e seguiteci. E se volete conoscere di più sul nostro mondo, www.ilpodcast.com. Per quanto riguarda questo episodio di Parlo in Radio, esplicativo è tutto, io vi rimando in un nuovo episodio lunedì prossimo, sempre alle ore 15.30. Ciao! Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi.